Ciao ragazzi sono il piccolo Ruby e sono qui per farvi un video ispirato ad un video di Mistortellino io vi lascerò il video qui da qualche parte cara Eleonora se vuoi chiedermi i diritti fallo pure io posso pagarti solo in centesimi allora questo video parla dei libri che io sono stato costretto a leggere durante il mio periodo scolastico lei ha consigliato questi libri che si potevano rileggere in qualche modo dopo il periodo scolastico insomma che magari si riescono ad apprezzare di più invece vi parlerò dei libri che sono stato costretto a leggere durante le superiori e che sinceramente non ho apprezzato allora il primo libro che ho letto è stato in seconda superiore ed è stato il Io non ho paura di ammaniti un libro che ai tempi io non ho apprezzato perché sinceramente io ero nel mood dei classici avevo letto Madame Bovary, avevo letto La lettera Scarlatta, avevo letto Jane Eyre e quant'altro ed approcciarmi ad un libro diciamo young adult per i tempi non mi piacque non mi piacque la storia, non mi piacque le varie descrizioni questo usare delle terminologie che a me sinceramente mi facevano leggermente accapponare la pelle e fui l'unico a cui il libro non piacque vidi spezzoni del film ma anche lì parliamone sinceramente comunque brevemente il libro parla di un ragazzino che vive tipo in Puglia o nel sud Italia adesso non mi ricordo e praticamente viene coinvolto in un rapimento scoprirà determinate cose eccetera eccetera non mi piacque proprio per quel motivo lì perché non era il mood giusto diciamo che i professori quando devono dare delle letture ai libri non pensano a cosa potrebbe piacere ma a cosa potrebbe piacere loro infatti la mia prof era tutta entusiasta di leggere questo libro sì ho capito però tu devi andare incontro alle esigenze degli studenti non alle tue cioè voglio dire non è che posso far leggere a una classe via col vento perché io sono un fan di Rossella Oara cioè ad una classe magari di prima superiore che non riesce a comprendere il libro e magari vuole leggere tutt'altro quindi lei era tutta contenta oh mio dio mio dio che bel libro che bel bel libro ma a me non piacqua assolutamente e da lì ho deciso di non leggere più nulla di Ammaniti il secondo libro che ho letto in terza superiore è stato I sentieri di nidi di ragno di Italo Calvino Italo Calvino però è un autore che io ho affrontato successivamente dopo la scuola ma sinceramente io non ho letto ho letto ma non ho capito sinceramente le sue opere non ho capito dove voleva andare a parare sinceramente non ho capito se dietro le sue storie c'è in qualche modo una lezione vuole in qualche modo dare spunti di riflessione questa cosa qua non l'ho mai capita sinceramente quindi ho deciso di chiudere con Calvino il sentiero dei nidi di ragno è un libro che parla di guerra secondo la guerra mondiale c'è questo tizio che dovrebbe chiamarsi Pin se non sbaglio perché Pippa era quello delle grandi speranze Pin sì perché ai tempi facciamo la battuta il Pin del Pin vabbè c'aveva una sorella che faceva la prostituta e praticamente se la faceva con i tedeschi lui incontrava, ricordo vagamente che lui incontrava questo tizio e lo portava in questo luogo dove i ragni facevano il nido ma i ragni fanno il nido no? gli uccelli fanno il nido vabbè dettagli e quindi era incentrata su questa amicizia sulla rivoluzione sul fatto che la sorella se ne sbattava detta la nera la rossa vabbè la sorella se ne sbatteva totalmente del figlio e insomma si divertiva a gogo libro che io non ho assolutamente apprezzato anche perché voglio dire i programmi ministeriali dovrebbero essere rivisti perché è inutile che io faccio un percorso di scuola media dove faccio fino alla seconda guerra mondiale per ripartire poi con i superiori e arrivare fino alla seconda guerra mondiale cioè io penso che la storia dovrebbe anche andare oltre la seconda guerra mondiale guerra fredda tutto quello che concerne l'Italia prima repubblica e quant'altro poi non ci lamentiamo che i giovani non sanno chi è Falcone Borsellino scusatemi chiusa parentesi vabbè comunque stavamo facendo la seconda guerra mondiale quindi insomma quel libro era abbastanza adatto diciamo che per i tempi insomma è stata una lettura abbastanza godibile perché comunque non è complicato Calvino non scrive delle cose abbastanza complicate però non sono riuscito poi successivamente a capire che cosa volesse dire l'autore un altro libro che io ho odiato tantissimo perché non ci ho capito niente e qualcuno mi dirà rubi ma da quando tu capisci qualcosa ci avete ragione sono stati in malavoglia di verga io non ci ho capito una mazza perché il libro è scritto in siciliano stretto e non si capisce nulla cioè io l'unica cosa che ho capito è che c'è sta famiglia sfigata che gliene capitano di ogni punto non mi saprei dire chi sono i personaggi a parte padron Tony e i lupini che vanno con sta barca a prendere i lupini ma poi succede un qualcosa insomma c'è gente che muore comunque non mi ricordo ho fatto una fatica in mani a leggere quel libro perché ovviamente se voi masticate un po' il siciliano potete in qualche modo barcaminarvi anche se credo che sia un siciliano un po' insomma dell'ottocento quindi probabilmente c'è stato un cambio ora non sono uno studioso di dialetti comunque non l'ho apprezzato proprio perché non ho capito niente non ho capito niente di quel romanzo e quindi io più leggevo e più mi sentivo frustrato perché non riuscivo a capire come se voi leggete che ne so un testo in un'altra lingua che ne so in tedesco e non ci capita assolutamente niente e ogni due per tre dovete consultare il dizionario vabbè adesso io sto parlando di dialetti e poi vabbè la lingua è tutta un'altra cosa perché è un'altra costruzione eccetera però voi capite che ti senti frustrato se non riesci a comprendere quello che stai leggendo ed è una cosa bruttissima un altro libro che ha vabbè poi diverga famosissimo Rosso Malpelo altra novella letta in tutte le salse dalla quinta elementare fino alla terza superiore ritornava sempre Rosso Malpelo che io me lo sognavo anche di notte che era una cosa stata veramente una di quelle cose frustranti di Rosso Malpelo che ogni tappa tu lo incontravi poi un altro libro che ho letto anche questo in terza superiore un altro libro che ho letto in terza superiore che non mi è piaciuto assolutamente anche perché non era il momento e il periodo giusto era La coscienza di Zeno cioè è stato La coscienza di Zeno Allora La coscienza di Zeno è un libro molto interessante però non da far leggere a dei ragazzini di 16 anni perché non riescono a capire determinate cose Allora La coscienza di Zeno parla di Zeno Cosini che un giorno va dal psicoterapeuta psichiatra vabbè comunque da uno a farse curà perché ha il problema del fumo allora questo psichiatra gli dice senta faccia una bella cosa scriva un diario di tutta la sua vita del perché ha iniziato a fumare di tutte le varie cose insomma lei tutto quello che gli viene in mente scriva diciamo che questa insomma questo stile o comunque questo meccanismo questo modus operandi lo si ritrova anche nel lamento di Portonoi di Philip Roth però Philip Roth è molto più sintetico Philip Roth poi affronta delle tematiche anche dal punto di vista sessuale e quant'altro l'ho letto metà poi l'ho lasciato lo devo recuperare però diciamo che è un po' quello quindi il nostro caro Zeno Cosini ci parla del fatto che lui ha fumato per determinati motivi di qua di là i suoi fallimenti amorosi ad Anna Alberta ad Anna Ada Alberta Anna e vabbè lasciamo perdere queste tizie cinque sorelle che cominciavano per A una roba assurda e voi capite che è un'altra frustrazione perché voglio dire io magari a quest'età che ho 30 anni riuscire meglio a capire la coscienza di Zeno ovvio che non ho l'età di Zeno Cosini perché Zeno Cosini dovrebbe avere dai 50 ai 60 anni assolutamente però in qualche modo riuscirei a capire determinati meccanismi cosa che ai tempi che avevo 16 anni non sono riuscito a comprendere a capire e quindi è stata un'ennesima frustrazione di questo romanzo bello per amore del cielo perché comunque va a indagare l'animo umano di questa persona che in qualche modo vuole uscire da questo torpore eccetera eccetera ma sinceramente l'ho trovato molto molto frustrante molto frustrante devo dire che per quanto riguarda le letture il periodo scolastico è stato veramente molto frustrante voi capite che eravamo professionale non leggevamo cose complicate insomma però fare leggere Zeno Cosini a degli adolescenti anche perché comunque Svevo non è mai stato semplice io poi mi sono approcciato a senilità ma anche lì a una costruzione dello stile della frase insomma che non è facile sinceramente ha scritto solamente tre libri però è stato rivalutato dopo la sua morte eccetera eccetera però è stato qualcosa di veramente molto ma molto frustrante benissimo questi sono i libri che mi hanno frustrato durante il periodo delle superiori fatemi sapere quali sono i vostri io concluderei dicendo che comunque è giusto approcciare gli alunni alla lettura però bisognerebbe anche dare letture nelle corde di chi hai di fronte perché ripeto non è che tu puoi dare Anna Karenina a dei ragazzini di prima superiore che non riescono a capire ma non perché sono deficienti perché in qualche modo c'è tutto dietro una costruzione una cosa cioè non puoi e neanche dare letture magari frivole dare comunque una lettura che si avvicina comunque al mondo dei giovani o comunque all'età giusta che però possono far riflettere ci sono veramente tantissimi libri e niente a me è andata così fatemi sapere a voi quali libri vi daranno per le vacanze quali libri avete letto leggerete vi hanno tediato durante il periodo delle scuole molto bene fatemi sapere tante cose belle io vi saluto vi mando un grosso bacio noi ci vediamo al prossimo video ciao